Neanche il tempo di consegnare a Venezia migliaia di firme per chiedere che la sanità della pedemontana torni a essere quella di una volta e già arriva, quasi fosse una risposta indiretta, l'ennesima pufera sull'Ul7. Poche ore fa è venuta alla luce una direttiva dell'azienda sanitaria che impone, nelle fasce di assenza di un neurologo negli ospedali del territorio, un consulto telefonico con un neurologo di Vicenza o Arzignano. E subito c'è stata una levata di scudi per una situazione che nessuna luce pedemontana ha ancora chiarito. Un'estate molto calda dove ci si aspettava qualche miglioramento nella situazione del nostro ospedale san bassiano. Le firme e anche gli incontri in regione, la presa di posizione dei sindaci, speravamo di trovare delle orecchie un po' più attente a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Già, in molti se lo aspettavano dopo l'ondata di firme per una sanità migliore e dopo la bocciatura del DG Bramezza da parte dei sindaci del Bassanese. E invece? Invece scopriamo che ci sono servizi che non sono presidiati e situazioni che peggiorano. Nel mirino di chi ha portato avanti la battaglia per la sanità locale c'è l'ultima novità che arriva dal San Bassiano. Una novità che ha lasciato stupefatti i bassanesi. Quello che però è davvero stupefacente è che nessuno delle autorità politiche preposte, assessore regionale, presidente regionale, direttore generale della ASL non dice assolutamente nulla come se fosse normale che in caso di Ictus un cittadino bassanese debba chiamare, sperare di avere un consulto telefonico. Ha dell'incredibile davvero quello che abbiamo sentito, quello che sentiamo, quello del quale veniamo a conoscenza. La circolare sul cosiddetto neurologo telefonico rinforza ulteriormente la volontà di chi ha raccolto migliaia di firme, spronando la società civile a tornare alla carica per ottenere finalmente una risposta. Noi non molleremo la presa sulla richiesta costante di avere un miglioramento nella situazione del nostro ospedale perché ce lo chiedono i cittadini, continuano a chiedercelo i cittadini e siamo pronti anche a riscendere in piazza nuovamente e non ci faremo sicuramente intimidire o tantomeno silenziare. Il silenzio dell'US è stato rotto da tempo dai cittadini, resta il silenzio di chi non intende rispondere. A loro, a tutti, ricordiamo che i nostri microfoni sono sempre aperti.